pochi colleghi a dare l'ultimo saluto al noto cantante dell'italiano mentre tra i fan in migliaia si sono precipitati a salutarlo una grande folla ha preso parte ai funerali di toto cutugno ma inaspettatamente tra i presenti c'erano pochi vitti colleghi questo ciò che ha fatto notare pupo che insieme a gianni morandi non è mancati all'ultimo saluto del cantante che ha fatto e farà sempre parte della storia della musica italiana da protagonista una vera e propria delusione per il cantante di gelato al cioccolato che probabilmente si aspettava di vedere molti dei suoi colleghi presenti ai funerali secondo quanto si legge su fanpage.it parlando con la stampa pupo dopo i funerali di cutugno ha dichiarato la presenza di gianni a questo evento è significativa sono mancati un po di colleghi ci siamo solo noi due mi è dispiaciuto un po non solo il cantautore si è detto certo del fatto che il defunto collega sia stato bistrattato in italia al contrario morandi ci ha tenuto a precisare che a detta sua questo non sarebbe mai accaduto io dico di no dico che è stato un grande cantautore ma anche un grande interprete ma come mai tra le tantissime persone presenti ai funerali di toto cutugno mancavano molti dei suoi colleghi una domanda questa che sicuramente molti si stanno ponendo i funerali si sono tenuti a milano oggi il 24 agosto e attirato la presenza di tantissimi fan sconvolti dalla notizia sulla morte avvenuta il 22 agosto scorso circa un migliaio di persone hanno salutato in modo commovente il noto cantante intonando il brano l'italiano uscita del feretro tra i volti noti presenti ai funerali sono stati individuati oltre pupo e morandi anche fausto leali e ivana spagna del resto dei suoi colleghi non si sa nulla di sicuro pupo è rimasto particolarmente deluso dalla decisione di alcuni di loro di non presenziare ai funerali